Rubati gli allestimenti, danneggiata la macchina per i peluche con l'ovatta sparsa sulla moquette rossa, sono senza cuore gli autori del furto e dei vandalismi nel villaggio di Babbo Natale in piazza Maggiore Aeste, danni per 1.500 euro, ma a far piangere gli organizzatori sono stati i volti dei bambini che se ne andavano sconsolati perché la macchina non funzionava e il pensiero che la vendita di quei pupazzetti, oltre a fare la felicità dei piccoli, avrebbe sostenuto l'Associazione per la lotta alle leucemie di Padova. Dagli organizzatori arriva un appello perché se si tratta di un gesto goliardico si evitino le denunce riportando quanto rubato e raggiungendo un accordo per ricompensare i danni.